Eccomi, mi sembrerà strano ma anche se sto per morire sono felice Buon salve e bentornati su No Mamamazzo Questa recensione andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacità mentali No sto scherzando, devo abituarmi a fare recensioni più corte, proviamoci Parliamo di Odio l'estate, film con Aldo, Giovanni e Giacomo diretti ancora una volta da Massimo Venier Regista che più di tutti, anche a detta degli attori, riesce a tirar fuori il meglio di loro E devo dire che anche questa volta ha portato a termine il compito Ma perché è così bravo a gestire questi tre comici? Perché nei suoi film non si limita a fargli fare delle parti comiche Gli dà delle parti da attori completi Infatti in Odio l'estate, come anche in altri film di Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo In particolare la prima trilogia, diciamo, dal 97 al 2000 Che era Tre uomini e una gamba, così è la vita e chiedimi se sono felice Oltre a esserci della comicità, della commedia C'è anche un lato malinconico, c'è anche un lato che ti fa, diciamo, riflettere E sono tornati su questa strada e l'hanno percorsa di nuovo egregiamente In altri film dove appunto il lato comico era preponderante, era quasi totale Nei film per esempio non diretti da Massimo Venier come Il Cosmo sul Comò Che era un film a episodi O Il Fuga da Reuma Park uscito l'anno scorso Che non era nemmeno un film, era più che altro un connubio Per festeggiare i 25 anni del trio comico Ma che è stato accolto come film E di conseguenza è stato accolto molto male Perché era proprio un collage dei loro sketch vecchi e nuovi Quindi messi un po' così Ma al di là di questo, anche in film sempre di Massimo Veniera Dove c'era solo il lato comico come per esempio nella leggenda di John e Jack Tutto questo successo, tutta questa arte nei loro film non c'era La cosa bella di Odio l'estate è che oltre a ripercorrere questa strada appunto di dare della commedia Ma anche della malinconia È anche quello di ripercorrere un po' i vecchi film storici di Aldo Giovanni e Giacomo Con delle autocitazioni cinematografiche Ci sono delle autocitazioni alle loro battute Ma sono dosate, sono messe nel momento giusto In modo che non siano ridondanti, che non siano fastidiose Appunto per lasciare spazio alla storia e all'incontro tra i personaggi Ma ci sono appunto delle citazioni cinematografiche ai film precedenti di Massimo Veniera C'è sempre il tema del viaggio, dell'on the road Che le ha accompagnati sempre in questi primi tre film E c'è sempre un richiamo alla Puglia Come nel primo film in Tre uomini e una gamba Dove appunto Giacomino doveva andare a sposarsi in Puglia Qui vanno semplicemente in vacanza Però vanno a sud, vanno in Puglia Quindi ci mettono otto ore di auto Separati, ognuno con la propria famiglia Ma poi ci sono anche dei piccoli episodi on the road Anche durante il film Dove i nostri tre attori si conosceranno meglio E è lì che vedremo i conosciutissimi Aldo Giovanni e Giacomo Come ce li ricordavamo Sarà che divento vecchio io Sarà che l'argomento trattato è stato forse più profondo rispetto agli altri Ma devo dirvi che sul finale Questo film, oltre a farvi divertire Vi farà anche lacrimare Vi farà anche strappare una lacrimuccia Non voglio dilungarmi più di così nella parte non spoiler Quindi inizierò la parte spoiler tra pochi secondi 3, 2, 1 Ragazzi, do per scontato che abbiate visto il film dall'inizio alla fine Quindi non mi rompete le scatoline Se poi vi spoilero qualcosa Allora, sappiamo tutti com'è finito il film E devo dire che mi sono abbastanza commosso Non so però se proprio da fan accanito Dei primi film di Aldo Giovanni e Giacomo Questa cosa del fatto che Aldo ha Diciamo questo male E quindi è destinato a morire a breve L'avevo capita da molti indizi sparsi Durante il film E mi piacerebbe sapere se anche voi L'avete capito Se l'avete capito quando Se l'avete capito dove Se non l'avete capito per niente E siete caduti dalle nuvole E ci siete rimasti malissimo Mi interesserebbe molto saperlo Il fatto che sia narratore Aldo Anche in questo film Il fatto che il film Lascia in sospeso Il fatto che Aldo lancia il canestro E non si vede se c'entrerà o meno il canestro E questa cosa appunto Avevo capito che sarebbe stata ripresa alla fine Mi ha dato proprio questa sensazione Di chiedimi se sono felice In chiedimi se sono felice Aldo dice subito all'inizio Come vi ricorderete Che anche se sta per morire È felice Poi ovviamente Alla fine non sta per morire davvero Ma era Non lo so Il personaggio che interpretava teatro Ed è stata tutta un po' una farsa Per riunire gli amici Che avevano litigato In questo film Lui non dice che sta per morire Ma morirà Quindi c'è una Un'antitesi Di chiedimi se sono felice Il fatto che Aldo È il più povero dei tre È quello che è la famiglia più numerosa Il fatto che aveva detto la moglie Che aveva preso un monolocale Quando in realtà aveva preso questa villa Dove ci stanno addirittura tre famiglie Che non ha badato a spese Che se ne è sbattuto di lasciare il cane Nella pensione estiva E si è portato anche il cane Che ama tanto Con sé Il fatto che Abbia dato Senza pensarci 100 euro Per il danno subito alla macchina di Giacomo In segno di amicizia Di lealtà Tutte queste spese Un po' eccessive Da parte di quello che era Diciamo il più povero Del trio Nel film Mi ha fatto un po' capire Che Non dava più importanza ai soldi E come ha detto all'inizio Sempre in Aldo Da voce narrante Che quando si arrivano a certa età Si danno importanza Alle cose stupide E si smette di dare importanza Alle cose veramente importanti Quindi unendo tutti i puntini Si poteva intuire Che Aldo Avesse qualcosa Che non andava Oltre al fatto Che appunto poi trombava Tutte le sere La moglie La moglie diceva No ma mi è stato trombando troppo Ha un segreto Magari ha un amante Il fatto che Aldo Fosse questo Malato immaginario Che aveva Mille Mille paturni Un po' alla Carlo Verdone O anche un po' La Giacomino Dei primi film O dei primi sketch Dei corti Che era sempre malato Che aveva Aveva la spalla Che non andava La schiena Che non andava Tutte queste cose qua Oltre al fatto Che era Un po' Lo stereotipo Del meridionale Che va in malattia Perché Non vuole lavorare Cioè tutte queste cose qua Che Ci sbattono in faccia Come la sabbia Per confonderci un po' Ma che alla fine Rivelano Il fatto che Aldo Stesse male davvero Che avesse preso Questi cento e passa giorni Di malattia Proprio per curarsi Senza dirlo alla famiglia Per non fargli passare Un brutto periodo Tant'è che nemmeno Nell'estate Glielo dice Per non rovinargli Quella che poi sarà L'ultima estate C'è anche Una citazione fantastica A tre uomini e una gamba Ovvero la partita Pallone Nella sabbia Dove In tre uomini e una gamba Aldo usciva Dalla sabbia In questo film Esce dalla sabbia Il figlio di Giacomino Con Aldo Che è fuori Dall'inquadratura Proprio per farci credere Che è ancora Aldo A uscire dalla sabbia Quando in realtà Non è così Molto carina La chicca Che hanno Che hanno usato Per questo film Sempre tornando a Chiedimi se sono felice In questo film Aldo Non lo dice Rima non voluta Scusate Ma anche se sta per morire È felice Quindi si chiude Il cerchio Di quello Che era Che era stato detto Diciamo anche Nel film Chiedimi se sono felice Quindi Mi è piaciuto davvero Tanto questa cosa Una superba citazione A quel film Che già di per sé Era molto bello Con Un tema Un po' più Importante Cioè La vera morte Di una persona E E la reazione Anche dei Dei propri cari Ultime postille Gli attori giovani Che temevo Che ingombrassero Troppo la scena Per non lasciare spazio Ad Aldo Giovanni Giacomo Così com'è infatti Nel primo tempo Del film Dove appunto Sono ancora mescolati Con le loro famiglie Ma nonostante questo Mi è piaciuto Davvero tanto Soprattutto La La side story Tra Salvo E Alessia Salvo è Un comico Uno stand up Comedian Giovanissimo Vi metto in descrizione Il link Così vi vedete Qualche suo sketch comico È molto molto bravo Quando ci prova Con Alessia Sembra Proprio il figlio Di Aldo Baglio Perché nel film È il figlio Di Aldo Baglio Quando fa Una proposta Alessia Di trombare E poi fa così Guarda Dall'alto Come fa Aldo Come ha fatto Aldo Anche in diversi suoi sketch Ha dimostrato proprio Una Un'attenzione ai dettagli Diciamo Che erano padre e figlio Quindi Mi è piaciuto molto Questo atteggiamento Non so se è voluto Dal regista O se è alla brovura Dell'attore Ma in generale Mi è piaciuto Anche le tre mogli Che pensavo di detestare Pensavo di detestare La di Biase Perché comunque Lei fa sempre la parte Un pochino antipatica Invece devo dire Che è stata Nel film La moglie migliore Delle tre mogli Quella di Giovanni È stata quella Un po' più Diciamo Neutro E quella di Giacomino È stata la moglie Più gnocca Ma anche più Antipatica Che poi Per fortuna Alla fine del film Si smolla un po' E diventa Simpatica Come gli altri La storia Sia quella del cane Della ricerca del cane Mi è piaciuta tanto Mi ha preoccupato un po' Pensavo che fosse morto il cane E che questo unisse il trio Poi il cane era vivo Anche perché Doveva morire Aldo Di conseguenza Sarebbe stata una strage Non era Game of Thrones È un film di Aldo Giovanni e Giacomo Di conseguenza meglio così La storia del bambino dodicenne Un po' viziato Un po' Che non ha un bel rapporto Con questo padre adottivo Che è Giacomino Mi è piaciuta anche questa tantissimo Perché è servito innanzitutto A far fare un altro viaggio On the road Aldo Giovanni e Giacomo Oltre a quello del cane E mi è piaciuto anche Proprio per Per vedere questo rapporto Padre figlio Tra Giacomino E questo ragazzo qua In generale Tutte le storie Delle famiglie Sono state trattate Molto molto bene Senza togliere spazio O meglio Un po' l'hanno tolto Ma chi se ne frega Al trio comico Che però abbiamo già visto Da vent'anni E senza essere ingombranti Quindi hanno gestito bene Sia loro tre singolarmente Sia le tre famiglie E questo mi è piaciuto Molto 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 Anche la parte in cui c'è Massimo Ranieri In cui si realizza involontariamente Il sogno ad Aldo Di cantare con Massimo Ranieri E di cantare in pubblico Quindi spera superare Questa paura Che il figlio aveva descritto In qualche scena precedente È stato molto bello Specie alla luce del fatto Che poi si scopre Che Aldo Ha una malattia Che lo porterà a morire Quindi Molto molto bello Complimenti ad Aldo Giovanni e Giacomo Complimenti a Massimo Veniera Spero tanto Che facciano altri film così Non presto Nel senso Sempre a una cadenza Checco zaloniana Quindi se anche lo fanno Tra un paio d'anni Tra tre anni Va benissimo Basta che sfornino Un altro film Così bello Abbiamo capito Che la comicità da solo Ormai basta Perché le battute Il repertorio Di Aldo Giovanni e Giacomo Ormai Noi lo conosciamo E quindi non ci possono più Sorprendere più di tanto Quindi dove ci possono sorprendere In una bellissima storia Come quella Che hanno gestito Io vi ringrazio Per avermi seguito Fino a qui Spero di essere stato Veloce nella mia recensione Vi ricordo di iscrivervi al canale Di mettere un bel mi piace Di condividere il video Con tutte le persone Che amano Aldo Giovanni e Giacomo Di commentare qui sotto Con quello che vi è parso Nel film E noi ci vediamo Nel prossimo video Come sempre Con l'inchino e con l'imbuto Vi saluto e Arrivederci